La felicità è autrice del libro Prove di felicità, ecco anche da questo libro è emersa una cosa che fa molto piacere a tutti, cioè che la felicità intanto si può conquistare con un po' di prove che poi lei ci spiegherà, ma fa anche bene alla salute, giusto? E così il mio libro edito dalla nave di Teseo ha la consulenza scientifica dell'università e dell'ospedale San Raffaele di Milano, ma perché? Perché si è capito che la felicità è un ingrediente difficile da quantificare ma sempre più studiato dagli scienziati e invece essenziale per la salute. Nel libro ho radunato 25 idee per provare a vivere con gioia, per esempio l'amicizia, ovviamente gli abbracci, i sorrisi, tutto quello che ha a che fare con il rapporto con gli altri. Poi anche i ritmi, per esempio dormire bene è qualcosa che ha a che fare con il nostro cuore e poi il cibo, mangiare insieme, quando si mangia insieme con gli altri si sviluppano endorfine, alcune delle molecole del piacere. Bisognerebbe che i genitori avessero cura per esempio di mangiare sempre insieme ai propri figli. C'è uno studio americano che dice come i bambini abbandonati davanti alla televisione da soli, ai pranzi e alle ceneri.